Dal Vangelo secondo Matteo Chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole. Perché pur vedendo non vedono e pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice Voi udrete ma non comprenderete. Guarderete ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore convertirsi e io li risani. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro e ascoltare ciò che voi ascoltate e non lo dirono.